salve a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video allora ragazzi oggi 2 settembre è uscito spaziale un hippie con i fiorelli è uscito questo qui summer strumer è uscita la donna che la donna è stupenda con lo zaino quello là poi è uscito ritmo di tamburi poi è uscito il deltavano fiorellini ragazzi come al solito è uscito per azione segreta la campana del lama oscilla ascia del drago difensore scarlatto e aliente combattente ragazzi ci vediamo al prossimo video news e un bacione a tutti